Ciao ragazzi, oggi siamo qua con un'intervista doppia e probabilmente io vi farò delle domande. Buongiorno a tutti Paggigi, qui è Paggigi ovviamente e siamo tornati in un nuovissimo video e questo è un video ringraziamento per tutti quelli che si sono iscritti. Questa intanto è la mia bellissima o bruttissima faccia. Invece accanto a me c'è il youtuber eccellenza italiana con 100 iscritti, 100 qualcosa di iscritti. E non ha fatto ancora lo speciale quindi è qui con noi e qui lui è Lorenzo Cerofolini. Buonassette a tutti, buonassette a tutti. Bordello raga, ma gustep di qua, hashtag bordello. Ok, possiamo iniziare il video, dagli! Allora, nome su Youtube? Ovviamente CeroBoss03, seguitemi, seguitemi il mio canale. E Paggigi, con lo spazio. Come ti chiami nome vero? Lorenzo. David. dove vivi abito a cascia vivo a casa mia quanti anni hai quindici tredici quanti anni hai la scuola no si purtroppo io no me l'ho spulso ma mi ha spulso ma mi ha spulso la mattina scaviglia ma dai te sei mai drogato ti sei mai drogato no cazzo me l'ho scoperto scappa porco dio scappa dipende no no ovviamente no ragazzi non vi drogate la droga is bad non vi drogate please non drogatevi perchè è brutto brutto allora hai un canale si è il canale qui a fianco si esatto ho il fiume che fa il canale guarda il canale muratori l'altro ieri io ho un po di fiume c'ho fiume po c'ho lardo non so se bastano poi se ne vuoi degli altri ah beh si ho un canale si ho un canale anch'io ti piacciono i videogiochi no come se non si notasse ma fiume no ma fiume si no hashtag videogames sono la mia vita si qual è il tuo gioco preferito tutti i santissimi giochi della saga di super mario compresi quelli nostalgici e basta di tre cose positive dell'altro vai comincio io simpatico interessante e onesto gioioso solare è il mio best migliore amico che ho nella vita cose negative urla troppo 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 unica cosa negativa di questo tizio qui nessuna sono come i brutti padri mettono incinto le donne e poi scappano bravo mi faccio vedere una volta all'anno youtuber preferito me stesso no dennis butteron music questa è una bella donna dai chi lo mangia tra poco non lo so tutti ok anche noi fatevi un saluto ciao buon salve dai ebbene ragazzi se l'intervista vi è piaciuta ahahah ma anche il dito sulla fotocamera dai punze 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 dai ahahah buon salute ciao invito cat hun mac只有 nat ar sar ur c tu te ch che ti EEEE!